Sono un appassionato di tecnologia, da poco un provetto youtuber, ma soprattutto un progettista meccanico. Queste tre cose messe assieme mi portano a passare qualche migliaia di ore l'anno davanti a monitor e display che hanno in comune una forte predominanza di luce blu, che ha la particolarità, secondo diversi studi, di andare ad affaticare e a danneggiare l'occhio. Ne è una conferma il fatto che questa esposizione alla luce blu sembrerebbe purtroppo essere la maggiore causa di cecità per le persone tra i 60 e i 65 anni che hanno svolto nella loro vita lavoro di ufficio. Questa forte esposizione a questo tipo di luce purtroppo capita a me come a tante altre persone che lavorano tutto il giorno davanti a un computer. Che fare quindi? Xiaomi ha pensato di aggiungere alla sua lunga lista di prodotti anche un paio di occhiali che hanno la particolarità di proteggere proprio da questo tipo di luce grazie ad un rivestimento della lente di ben nove strati. Quindi prima di andare a conoscere meglio questo prodotto Xiaomi Redmi B1 vi ricordo come sempre di iscrivervi a questo canale cliccando sul pulsante rosso, lasciare qui sotto i vostri commenti e condividere anche il video nel caso vi sia piaciuto. Voglio inoltre ringraziare Xiaomi Club Italia, un gruppo Facebook a cui trovate il link qui sotto e invito tutti quanti ad iscriversi a questo gruppo in quanto lì potete trovare aiuto nel caso ci siano problemi con i vostri prodotti Xiaomi che siano telefoni o qualsiasi altro tipo di prodotto, inoltre potete trovare anche news e codici sconto proprio su tutti i prodotti che riguardano l'azienda di Beijing Xiaomi. All'interno della confezione di questo Redmi B1 troviamo davvero tutto l'indispensabile per adattare l'occhiale ad ogni tipo di riso. Ci sono infatti due stanghette che possono essere cambiate molto rapidamente. Una è classica mentre l'altra ha degli inserti gommati che la fanno un po' più sportiva. Ci sono poi due tipi di naselli in modo da trovare il più adatto al proprio viso. C'è inoltre una confezione per il trasporto degli occhiali davvero ben congegnata in quanto può essere appiattita per un ingombro davvero minimo ed ovviamente un panno per la pulizia degli stessi. Xiaomi insomma ci ha tenuto a non far mancare davvero nulla nella confezione di vendita. Trovi inoltre il design di questi occhiali davvero bello esteticamente con una giusta fusione tra il casual e il classico che quindi li rendono adatti ad essere portati davvero in ogni situazione. La qualità costruttiva rimane molto buona anche se ho notato qualche micro sbavatura nei punti di iniezione e di taglio sia della gomma nelle stanghette sportive sia nella parte da inserire nella montatura delle stanghette base. Le cerniere comunque sono solide e non hanno laschi o scricchiolini. Piccolo dettaglio poi sul materiale con cui sono costruiti questi occhiali. Si chiama TR90 ed è un mix tra il nylon e la fibra di carbonio. Rendono questi occhiali biologicamente compatibili a contatto con la pelle anche per un uso prolungato. Inoltre sono il 20% più leggeri di occhiali normalmente realizzati con altri tipi di materiali. Un'altra particolarità è che ha memoria di forma quindi anche se lo piegate lui tornerà sempre alla forma iniziale. Io non ho mai portato occhiali da vista ma non mi ha mai pesato indossare questi grazie alla loro conformazione e al peso ridotto di soli 20 grammi. Sin dall'inizio li ho tenuti per più di 10 ore al giorno senza fastidi. L'ergonomia deve essere stata studiata proprio bene in quanto ho provato a farli indossare anche a mia moglie che invece gli occhiali normalmente li usa ma li ha trovati anche lei estremamente comodi. Ma la cosa più importante per l'occhiale naturalmente è la lente. Secondo i dati di Xiaomi questa sarebbe in grado di diminuire del 35% i raggi blu mantenendo una luminosità comunque del 98%. Offrirebbero inoltre una protezione del 99% dei raggi UV. Beh ma nell'uso quotidiano poi i miglioramenti si notano? Sinceramente sì. Di solito arrivo a sera con un leggero bruciore agli occhi ma con questi anche se rimangono stanchi lo sono meno di prima e non bruciano. Ovviamente i risultati dovrebbero vedersi maggiormente nel corso dei mesi e degli anni. Insomma lo dico sinceramente io li ho voluti comprare perché ero davvero curioso di capire se c'era qualche genere di vantaggio. Ero molto scettico ma mi sono dovuto ricredere. Inoltre li ho trovati anche belli. In conclusione ha provato a pieni voti anche questo prodotto della serie Redmi di Xiaomi. Attualmente sono in vendita anzi in prevendita da Gear Vesta per una cifra di circa 35€. Sono disponibili in tre colori anche se non li potete scegliere in quanto vi arriveranno random in base a quello che capita. A me fortunatamente sono arrivati i neri anche se probabilmente li avrei preferiti blu. Ciao da Daniele Pintus dal canale YouCanBuy e se la recensione vi è piaciuta mettete un like, condividete, iscrivetevi al canale e vi aspetto inoltre sul gruppo Xiaomi Club Italia con cui discutere sia di questo prodotto che di tutti gli altri prodotti di casa Xiaomi. Il link è sotto in descrizione.